ciao a tutti ragazzi ci siamo manca una settimana ci mette sicuramente metterò mano prima il gioco che terminare i lavori qua nello studio però va bene così dicevo manca una settimanina ormai al giorno in cui potremo mettere mani su EA Sports FC 24 io chiamerò i FC24 per fare in fretta appunto così veloce però vorrei andare a fare due chiacchiere appunto su come a startare come iniziare in maniera da ottimizzare quello che abbiamo a disposizione nel gioco quindi bando alle ciance andiamo su pc ma anche se non c'è nulla andiamo solamente a vedere la copertina del gioco la versione ultimate perché vorrei andare un po' a fare un video di dialogo ma soprattutto di consigli su come effettivamente buttarci nel gioco quindi noi quando avremo accesso al gioco il 22 per chi ha preso la ultimate come vedete qui in questa in questa pagina avremo comunque la possibilità di ricevere 4600 FC points e decidere cosa farne questo però ne parliamo dopo parliamo proprio a livello macro per tutti quindi consiglio per tutti quali sono i primi passi da affrontare quest'anno in ultimate team ma io vi direi che il primo passo è quello di buttarsi a fare un sacco di partite in squad battle ma perché c'è un motivo valido quest'anno un po' più valido rispetto agli anni scorsi le tempistiche quindi i match delle squad battle sono meno lunghi mi sembra che durano 4 minuti invece di 6 a tempo quindi accorciamo la tempistica di gioco su una modalità che effettivamente un po' non ci piace però teniamo il conto di una cosa se effettivamente noi metteremo mani al gioco il 22 che si tratta di un giovedì se non ricordo male un venerdì ma un venerdì a mezzanotte quindi giovedì sera ok noi avremo il tempo di accumulare pacchettini quindi punti per poi andare a aprire i premi della domenica perché infatti domenica 24 si ci saranno appunto i pacchettini da riscattare nella parte delle squad battle quindi mi raccomando la prima cosa da fare il 22 e il 23 uccidetevi di squad battle fatele tutte sono 40 partite è molto vero però durano di meno quindi in quei due giorni li ammazzatevi di quello così poi domenica potrete spacchettare e tentare la sculata non si sa mai questo perché però perché vi dico di fare prima di spacchettare di avere tanti pacchetti da spacchettare al volo perché avrete sicuramente le prime sbc da fare quindi avendo giocato accumulato crediti spacchettato potete utilizzare quello che avete raccolto per poi andare a completare le sbc e avere altri pacchettini da far girare quindi avere giocatori magari sculate qualcuno che ne sappiamo attenzione però come si fa però a come dire accumulare altri altri oggetti per poi spacchettare andare a fare tutti gli obiettivi che ci vengono richiesti nella sezione obiettivi che conosciamo ormai benissimo mi raccomando fatevi tutti lo so che inizialmente un po più complicato è un po più lunga effettivamente da fare fateli ci saranno sicuramente obiettivi in coop obiettivi in amichevole spaccatevi e fateveli tutti in maniera che poi riuscite velocemente a portarvi a casa tutti i punti esperienza sbloccare pacchettini da aprire e spacchettare in maniera assoluta questo è il momento giusto poi per spacchettare perché ci sarà pochissimo come dire pochissimo contenuto in giro sul mercato quindi più accumulate ora meglio sarà soprattutto appunto poi nelle sbc che nella maggior parte dei casi sono tutte sbc con giocatori scambiabili quindi ammazzatevi praticamente squad battle di obiettivi e poi di sbc in maniera che potete far riciclare un po i vostri pacchetti per chi poi ha preso la ultimate quindi facciamo appunto la ultima per forza perché parto dal 22 ma questo consiglio vale anche per il 29 ragazzi gli obiettivi e soprattutto la parte delle squad battle fatevela perché sono pacchettini che aprite ogni domenica mattina la sculata è dietro l'angolo sempre però poi cosa invece potremmo fare coi 4.600 fifa points che abbiamo a disposizione dopo la ultima praticamente facciamo il caso anche di un'altra cosa ci sarà appunto la campagna nike che parte il 22 quindi qui bisogna spacchettare in maniera in vera e conta invece il 4.600 fc points ci sono due cose che possiamo fare nel gioco spacchettare quindi possiamo spacchettare e ammazzarci di pacchettini oppure oppure potremmo affrontare dei draft allora che sul sul fare draft oppure su spacchettare messo dopo è così con la ve c'è sempre una squadra di pensiero da seguire io il mio consiglio cos'è di bilanciare un po le cose magari fatevi un qualche draft vedete come va se vedete che non riuscite a stare dietro perché effettivamente la le persone che incontrate sono già molto avanti come gioco quindi sono un po più forti di voi vi conviene spacchettare c'è da dire che se facciamo i conti effettivamente è avere l'accesso a un draft online costa 300 fifa points prima quindi fc points se perdiamo già la prima abbiamo un pacchettino che dovrebbe valere se non ricordo male 75k già fare una vittoria è un pacchetto abbastanza interessante da 100k e a salire vi ricordo che le quattro vittorie avevano dei pacchettini da 250k che non sono assolutamente male quindi che dire io il mio consiglio io molto probabilmente a parte che mi metterò in live a farlo e quindi mi sicuramente mi spaccherò di draft anche perché ripeto a me piace di più fare esperienza sul gioco quindi preferisco giocare se invece volete non ve la sentite volete tentare la sculata allora si dipende un po anche dalle vostre tempistiche di gioco quanto giocate oppure oppure o questo cioè nel senso se avete poco tempo da dedicare allora conviene che magari spacchettate e andate a giocarvela sul mercato quindi spacchettate vendete quello che avete trovato a prezzo ovviamente aumentato poi io non sono un tether ci capisco un po poco sulla parte di compraventa ci faremo sicuramente aiutare da da qualche mio amico che è il mio contatto per questa parte qui quindi i consigli sanno sicuramente dietro l'angolo però in quel caso qui se avete poco tempo di gioco vi conviene andare a prendere i pacchettini a sbustare e andare sul mercato a rivendere e comprare questo potete farlo praticamente anche dall'app in maniera da utilizzare le dieci ore di e play se non avete preso la ultimate edition ma solamente appunto lo e play lo stesso consiglio poi varrà dal 29 però lì il mercato sarà già un po più complicato c'è una variabile grossa appunto per quello che vediamo qui la campagna nike bisogna capire cosa cosa verrà lanciato quali pack carte verranno lanciate già dal 22 quindi questa è una bella variabile che potrebbe nascondere qualche momento di mercato molto interessante già appunto nella nella c'è nell'early access quindi nei giorni anticipati però questa è una digressione ragazzi io vi ho detto più o meno tutto quindi giusto per riepilogare passo 1 cosa fare appena avete il gioco in mano squad battle dal 22 al 23 uccidetevi perché il 24 avete pacchettini da aprire quindi fatene più possibile fate tutti gli obiettivi che vi vengono dati e poi con appena beccate qualche carta doppia eccetera sbc 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 e poi così fate riciclare tutti i vari contenuti e tutti i vari giocatori poi consiglio 2 i 4 mila e 600 fc points che vi danno nella ultimate edition come utilizzarli se avete tempo di gioco a disposizione draft ammazzatevi sui draft perché tanto anche perdendo il pacchettino che vi da non è non è assolutamente male se invece avete poco tempo volete fare più mercato vi piace di più questa parte allora spacchettate andate a rivendere comprare e fate un po di credit in maniera poi da costruire la vostra squadra vi ho fatto un breve riassunto di quello che vi stavo consigliando ragazzi fatemi sapere nei commenti come starterete voi su e sports fc 24 mi raccomando volete youtube mi piace al video ci vediamo al prossimo filmato ciao a tutti